Ciao! Questo è il primo pagellone dell'anno e quindi volevo lasciare nella intro di questo video una cosa che fosse un attimo a testimonianza e a imperitura a memoria nei mesi perché poi iniziano il campionato, le oppe, le osa, ci si dimentica ogni osa per cui volevo lasciare testimonianza di una cosa che in pochi oggettivamente hanno notato ma chiaramente tra quei pochi c'era anch'io e cioè che nella Supercoppa che si è appena giocata la settimana scorsa mi c'è stato un grande assente a parte il pubblico, dico, che proprio non c'è andato nessuno c'è stato un grande assente a parte il buonsenso, che non ce l'hai avuto perché se te tu mi fai una coppa, un evento di genere tu me lo metti in fra settimana in un posto dove non c'hanno neanche la squadra qualifiata capisci, è proprio il buonsenso ma c'è stato un grande assente a parte un arbitraggio decente che non si è visto neanche, in nessuna partita proprio c'è stato ma c'è stato un grande assente Petrucci ragazzi, io Petrucci, magari c'era inguattato da qualche parte però io sinceramente non l'ho visto e mai prima d'ora, a mia memoria, s'era perso un'occasione di genere o comunque una passerella, una vetrina, un palcoscenio ma proprio in carriera per cui dai tempi, no? dalla creazione Dio, Adamo, Eva, Petrucci, presidente della VIP, l'animali e tutto questo è stato l'ordine, no? quando si dice non si sa se è nato prima l'Ovo o la Gallia non si sa perché quando l'hanno fatti i giornalisti erano tutti intervista a Petrucci presidente della VIP e quindi ci siamo persi questo dettaglio evolutivo e poi sarebbe diventato per cui, non lo so l'ho voluto dire qualora poi nei prossimi mesi questo dettaglio dovesse rivelarsi essere un dettaglio significativo io l'avevo senza bisogno per forza necessariamente di dover fare i complottisti in tutti i modi però, boh, che segno sarà? Cancro ci sono andate a cercarlo è nato 19 di luglio per cui, gioco forza, cancro ascendente, credo Messina non so, non so, sicuro boh Wayne Selden MVP miglior giocatore di giornata dice perché? perché così ahimeno si comincia subito a fare polemica proprio dalla prima parola di video e si rompe proprio il ghiaccio senza sta... si apisce subito di che panni ci si veste capito? non si perde tempo leggo tutti perché sono tanti se no poi me li dimenticavo Michi, Willis, Johnson, Abdurrahman Cravice, Cicciarini, Perkins e Moretti questi sono tutti quelli che nell'ordine hanno fatto più di valutazione rispetto a Wayne Selden però ragazzi io che va di... c'è quella tripla onestamente c'è qualche cosa dovrà pulvalere no? quella tripla lì c'è un parabolone pare a la cometa di Piazza Bra eeeh non voglio essere però Iuzzolino Henry Williams Sly Gray Lou Bullock Wayne Selden non lo so io tenderei a essere ottimista però poi mi dite se no quando sparo i giudizi a inizio anno poi porto male quindi non voglio capito non voglio essere diciamo che per ora limitiamoci a quello che si è visto l'esordio è stato più bello di un rilascio di Marty Holland si può dire ha in meno vesto si può le dire l'ho detto Andrea Cicciarini miglior italiano e poi qualche d'uno mi dovrà spiegare un giorno com'è possibile che per tutti gli anni per tutta proprio la generazione in cui questo giocatore qui Cicciarini è stato nel suo prime cioè al suo meglio da giovane in pieno delle forze contemporaneamente la nostra nazionale ha avuto perché ce l'ha avuta la carenza di playmaker che ci ha avuto queste due cose proprio non sono compatibili è come se nella Slovenia di oggi facessero fatica a trovare un gothugai cioè proprio no 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 come se nella Francia gli mancasse uno arto con le mesce bionde che ruba i trofei di difensore dell'anno non si spiega questa cosa però è successo Mikhail Sokolovsky bocciato perché? perché in realtà non è neanche troppissimo colpa sua nel senso che Sokolovsky è il classico giocatore cartina di tornasole cioè ti dà proprio l'immagine della squadra gioca bene se è all'interno di una buona squadra come era per esempio l'atreviso di primo anno di Sokolovsky gioca così così se è all'interno di una squadra così così come era per esempio l'atreviso dell'anno scorso gioca da da fa quasi schifo quest'anno i lunghi i lunghi promossi ma proprio i pacchetto in toto direi promossi perché Hopkins attirava giugni bene come rimbarsi Rivers quattro stoppate tra l'altro anche di dinamismo no? di intimidazione che è ancora più difficile come specifica e Mamadiouf con l'atteggiamento giusto diciamo in uscita dalla panchina e Funderburg che vabbè insomma ormai l'hanno preso bisogna anche dire però a onor del vero che con Cicciarini a passare i pallone e con Derek Hook come avversario diretto che ti difende è insomma anche Vitalis Shihoko sarebbe sembrato un giocatore Semai Christon promo o Semagi Christon perché c'è questa duplice valenza eh promosso perché c'è tanto di Christon nel più 19 di quarto periodo più che lo vedo giocare in questo inizio di campionato più che gioca bene meno che mi pare un playmaker per cui nel momento del rientro di Magiura che dovrebbe essere questione di giorni crociando le dita l'eventuale l'eventuale con presenza e con partecipazione complementarità dei due ci dirà quanto effettivamente Tortona potrà dà fastidio alle prime tre Drew Crawford bocciato perché non mi ha permesso di bocciare Lohet perché Lohet ha fatto schifo Sodo ma Crawford ha fatto ancora più schifo e se Lohet e Crawford dovessero essere questi qui per tutti il campionato allora c'è urgenza di recuperare Spagnoli prima possibile perché c'è bisogno che Flaccadori giochi da guardia ma proprio c'è quasi più bisogno di questo che Nokia Eleven levi quello sbaffo rosso ma l'avete visto quello sbaffo rosso in il punteggio ma che ce l'ha proprio quello va levato subito ma di volata non si vede niente perché ce l'hanno messo Carvel Anderson promosso perché se gioa sempre così cioè se fa sempre a nestro tutte le volte che arza la mano è allora il campo mi si allarga in una maniera talmente smisurata che anche i 199 cm di Smith sotto sono un problema relativo la rimessa quella rimessa bocciata quella rimessa in tutto e per tutto perché Verona quest'anno di vittime illustri secondo me ne farà perché comunque sia nessuna squadra che non sia Bologna o Milano può permettersi di regalare due americani Dixon e Harrison però quella rimessa quella rimessa è stata brutta è stata più brutta della decisione di Bowman di tagliarsi il crestino biondo e quella è stata brutta come decisione onestamente Bowman io ti voglio bene Ettore Messina perché amico di Petrucci no perché è il vero valore aggiunto di questa squadra spiego brevemente il motivo se quella tripla di Petrucelli fosse entrata o se anche Melli non avesse rifilato il capo ringollone in difesa e Milano avesse cominciato 0-2 sulle prime due partite ufficiali quindi abbandonato il primo trofeo della stagione e persa la prima di campionato quella panchina lì di Milano sarebbe scricchiolata sotto i piedi di chiunque altro tranne che di Messina se fosse cominciata 0-2 la stagione di Milano con Messina in panchina non sarebbe successo niente e questo è un grande valore aggiunto per una squadra che deve giocare il numero di partite che gioca Milano normalmente durante la stagione questa è la vera forza Tai odiase bocciato perché è troppo più forte di questo qui cioè questo non può essere odiase onestamente Brescia è comunque a testa alta perché quell'altro era Milano ma questo un po' è un passo e tre falli se voleva uno e faceva un passo e tre falli teneva Bois con tutto il rispetto odiase non è ma anche Bois sarebbe uno che fa un passo e tre falli però ancora non lo sa Derek Quillis promosso perché so i numeri che lo promuovano ma la cosa migliore che è successa a Venezia in questa giornata è stata quella di vincere una partita con abbastanza autorità in una prestazione di Mitchell Watt piuttosto in colore e questa cosa fino all'anno scorso era follia totale assoluta e fa paura all'avversario di rete della Reier fa paura poi ci sarebbe un'altra cosa internos che ho visto in box score di fine partita e tra i giovani aggregati alla squadra c'è un certo Alessandro Ciapelli con i CH che è un po' strano con i CH come cognome per uno che è nato a Campo San Piero sempre ho visto esiste qualche uno di voi lo conosce è una persona non è che è Jeremy sottomentite pronto a entrare no eh Mike Henry bocciato perché che l'EMB non sia un granché io lo vado dicendo da un po' però in realtà Henry è molto meglio di così e anche i 13 minuti boh le capisco un po' lo dico perché siccome avevo chiesto di cambiare il logo e subito tra l'hanno cambiato e allora no magari non sia mai che comunque la salvezza non è che la devi andare a conquistare Italiercio per cui si va per dire Skylar Spencer bocciato perché mi ha dato proprio l'impressione di uno che ancora non ha capito proprio da che parte di me è come qui meme che c'è coso che guarda non lo so va anche detto che a meno che non fosse stata la reincarnazione di Charles Shackleford anche con Phil Fein io non penso che sarebbe cambiato chissà che cosa quindi poche scuse Trieste quest'anno non si salva coi talento si salva coi lavoro Muhammad Ali Abdur Rachman promosso perché fa minutaggio da solo c'è capito quando tu dai finito di dillo è già beh potresti chiudere tagliare e già sarebbe un video di una sua integrità capito e quindi e poi perché se gioca così soprattutto se dà via il pallone in questo modo qui Moretti può giocare anche da guardia e allora il giocatolino potrebbe anche funzionare però aspetto un avversario un pochino più pronto di questa Trieste per giudicare l'energia promossa di questa squadra perché io non lo so com'è possibile però pare proprio quella di Roy Hackers da un punto di vista di intensità e con questa energia qui in Serie A vinci anche senza un 4 vinci anche nella sera in cui Vol de Tensai non fa canestro mai neanche per scherzo e ti levi delle soddisfazioni a margine più che lo vedo e più che in televisione Colby Ross è uguale a Trey Young io non lo so sarà il bracciolo sarà l'alopecia sarà i capelli spettino è uguale non come gioco come stedia uguale Doe e Jones che di fatto sono le due scommesse di questa stagione perché un Aho per quanto alle volte faccia degli errori che proprio ti fa perdere la voglia di vive ma comunque non lo puoi definire una scommessa ha già MVP di un campionato interessante comunque da guardicchiare anche a questo giro dove ha già un malino doppia doppia quindi insomma questi altri due invece sono un po' le due scommesse e ci danno si impegnano lo vedi però poi raccatano poco all'atto pratico e in questo ruolo di dubbia utilità di dare impegnarsi senza raccattare niente c'era già Krushlin le aziende che fanno gli sciampi perché non capisco come sia stato possibile che nessuna si sia fatta avanti per far da sponsor alla Napoli di Stuart e di Robert Johnson sinceramente mi sembra un'occasione sprecata anche perché chi altro vuoi bocciare in una squadra che a un certo punto ha toccato i più 20 contro la Virtus Bologna che cosa puoi dire onestamente se giocano così si divertano a Napoli Jordan Michi perché scippato dell'MVP della Supercoppa ha voluto mettere subito le cose in chiaro nella prima di campionato io lo sapete Scariolo non è il mio allenatore preferito però se si guarda solo uno spaccato degli ultimi mesi ha vinto l'Europeo ha vinto la Supercoppa ha vinto in rimonta la prima di campionato e c'ha praticamente tutti i quintetto titolare in infermeria è un po' le esse per forza tutta fortuna perché se no a Napoli di per l'appunto e gli avevano belle dato un numero della smorfia invece e basta vi svelo questo piccolo retroscena io avevo già idea di cambiare completamente rinnovare il format del pagellone però è un'idea che ancora non mi è sembrata completamente matura quindi annuncio già da ora che lo faremo dalla sedicesima giornata la prima di girone di ritorno per ora si rimane con il vecchio format collaudato di pagellone tutte le settimane un promosso tra la squadra che ha vinto e un bocciato tra quella che ha perso e poi qualche feciatina a Petrucci e a Gandini di contorno per impacchettare il tour si scherza di ritorno di ritorno di ritorno di ritorno di ritorno di ritorno